Come al solito mi sono dimenticata di salutare due Lolline, Kitty e le altre Lilline invece se ne sono andate a giocare fuori. Comunque volevo salutare Francesca di Dario e Martina. Ciao, ciao Stelline, il video di prima è tutto dedicato a voi, buon inizio scolastico a tutti, ciao, un bacione!